Giorgio Jannis Grazie a tutti Giorgio Jannis Grazie a tutti Come una raccomandata E che sia certificato la ricezione E quindi la venuta comunicazione con la pubblica amministrazione Sì, è una domanda banale Ma ci faranno dopo le spueste se io le spueste elettroniche certificate? Vanno in fallimento? Come molte altre cose del vecchio mondo Quello che si basava sugli atomi e non su unibit Molte cose finiranno, certo Pur dovranno cambiare per non morire Come diceva la canzone Beh, insomma, vi rimanco il poestino Che corin da ora le int per firmare a comandare Sì, forse che io un po' glenestre E maludizioni Perché non si inna chiasi Si in via, non si arriva Invece che vengono a rispondere subito E non vengono a rispondere subito Non capisci che vengono a fare E vengono in ritardo E poi in penale No, è solo robe di ogni dì Insomma, che non sono di nuova Io non ho ricevuto nuova I poestini serviranno a portare i pacchi Quelli certo non passano per la posta elettronica Però tutte le comunicazioni Comprese quelle ufficiali Sto parlando di tribunali Convocazioni Gare d'appalto Firme di professionisti Per consulenze Con la pubblica amministrazione Tra professionisti Tutto questo Essendo informazione Quindi testo scritto O se vogliamo anche tramite foto O progetti O schede tecniche O planimetrie del territorio Non lo so Potrà, siccome l'informazione Deve passare attraverso strumenti Fatti apposta per comunicare informazione Cioè la rete mondiale Ecco, io sei di disi C'è che succede in radio Perché come ho le poste elettroniche Certificate Non si mandano, non sai Le questure I carbineers Ecco, altri Non si mandano Non si mandano Sertamente rinuie Ma State presentate in pompe magne Per televisione Come una grande riforme De amministrazione E sono ridotto il fatto Che darà le possibilità Tra i cittadini Di se poi peasse Con le amministrazioni pubbliche I professionisti Gli enfri loro Ma In realtà Qualcuno mi ha detto Che no Vengono Mi chiamo acchiappare Su serio Ci sia succeduta Successa al solito Casino all'italiana Sì perché Teniamo presente Sono indicazioni Che anche queste Cominciano ad avere dieci anni Da una famosa Legge 150 Del 2001 Del ministro Stanca Ripresa poi da Prodi Ripresa poi Dall'ultimo governo Da Brunetta In quanto innovazione E il meccanismo Di per sé È semplice Teniamo presente una cosa C'è una legge Che dice specificatamente Che il cittadino Ha il diritto Di comunicare In forma digitale Con la PA Unica amministrazione Sì Cioè io devo poter Mandare una mail Anche solo per informazione Non stiamo parlando Di poste certificate Quindi con cui avvengono Degli atti ufficiali E ho il diritto Anche di ricevere Una comunicazione In formato elettronico Chiaramente Come si parlava All'altra volta Delle scuole O delle PA stesse C'è un grado di Non preparazione Della pubblica amministrazione Rispetto a queste cose Tu chiami il comune E l'impiegata Ti dice Non siamo preparati Non usiamo la posta Dobbiamo 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 Protocollare Quindi ci occorre Il cartaceo Quindi sono tutte quante Delle dinamiche Che sono Da giolitti Un secolo Erotti di tempo Che funzionano Ma a quanto pare In Italia funziona ancora così Ma sono dei paesi In Europa Non sai Io penso All'Unione Europeana In do là Che questa È diventata Come al solito I paesi su al nord Sono molto più avanti Per non parlare Della Finlandia Dentro cui Ci sono proprio Recenti Delle leggi Che stabiliscono I diritti di cittadinanza Digitale Delle persone O il diritto di banda Quando parliamo Di digital Sarebbe dire Che ad esempio In Finlandia È una legge dello Stato Secondo cui Ogni persona Che nasce in Finlandia In questo momento Ha un diritto Come cittadino Ad avere Una banda Minima Garantita Di connessione Che in Finlandia In questo momento Sono 4 megabit Insomma Interessante Si diceva Forse già una volta L'altra volta Sarebbe da misurare La civiltà Delle nazioni Di questo piano Lo disegno Forse è la prima puntata La prima puntata Misurare la civiltà Delle nazioni In base a quanta banda Permettono ai cittadini Che fanno parte Di quella collettività Perché Se rientriamo dentro Dei diritti Dell'umanità Proprio Che è il diritto All'accesso All'informazione E il diritto All'espressione Di sé Come garanzie Proprio fondamentali Della specie Ecco Che stent'un State civile Magari qualchidun Io continui Sempre a diesel E sempre qualchidun Caldiscano Il surf a noi Che non succederà Dopo in vista del cambia idee Ma che Ascugne e falo Come che lo ha fatto In tantissimi salti scassi Oppure Al vif in t'un'altra maniera Qualchidun L'è anche brav E tanti altri No Ecco C'è un problema Molto semplice sotto Lo dice la Vivian Redding Che è la responsabile Della comunità europea Per le tecnologie Che non è una questione Di un giocattolo in più Cioè Lo sviluppo economico Degli stati Europei In questo caso Non può Fare altro Che passare Per le innovazioni Tecnologiche Permesse dalla rete internet O comunque Della tecnologia Dell'informazione Della comunicazione Questo sarà Uno dei gradini Che permetterà Il cambiamento Cioè Quando le persone Comprese le PA Fatte di persone Si accorgeranno Della convenienza Di attività Convenienza anche economica Risparmi Procedure Più snelle Velocità Nell'eseguire le cose Si accorgeranno Della convenienza Di fare certe cose Allora forse le cose Cominceranno Si si In realtà La PEC italiana È ancora un problema Ma si diceva Mi dicevi prima Perché Perché è una posta elettronica Che tu puoi fare Soltanto con certe agenzie Del territorio O con Con l'Inps Con l'Ace Avano provato in maniera Sperimentale Ora puoi farlo Direttamente Con i siti Governativi Ma non è Una casella di posta Che puoi utilizzare Per qualunque Tua comunicazione Devi usarla Soltanto Per le comunicazioni Con la pubblica amministrazione Pare che non si possa Devo ancora provare A farne una serie Non ho provato a fare Una sperimentale E basta Pare che non si possa Dire a questa casella elettronica Di inoltrare la posta Su altre caselle Quindi se tu ad esempio Ricevi una comunicazione Una convocazione Dal tribunale Si Che scade tra una settimana Ma tu lì ci vai Una volta al mese Perdi la convocazione Perché non puoi sapere In che modo Se ti è arrivata o meno Se non andando Tra virgolette Fisicamente Su quella casella A controllare Questo però Provoca un sacco Di complicazioni Cioè Esatto Quindi bisognerà Lavorarci Ma un po' Parlo Sì Sono dei protocolli Da migliorare Sicuramente Ecco a proposito Di protocolli Anderei a un De pubblica amministrazione Che aveva un'altra sigla Che tu mi dicevi Sprindirà in onde C.A.D.C.A.D.C.A.D. Ecco Ci vuole di Che scade A parte il C.A.D. Che cognoscim ben Che è un programma Di proiettazione C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.D.C.A.C.A.D.C.A.C.A.D.C.A.C.A.C.A.C.A la parte più di democracy, è stata stabilita come linea guida per la qualità della comunicazione già da qualche anno, questo è interessante, a marzo è uscita una prima bozza, però era un lavoro in progress, un lavoro soggetto, una beta, come dicono gli informatici, di questo cadre dell'amministrazione digitale, perché cosa è successo? Brunetta ha messo fuori questo documento, ma ha detto a tutti, guardate che il documento non è definitivo, adesso lo lasciamo lì girare per qualche mese, chiunque voglia, di cittadini italiani chiaramente, può intervenire nei forum predisposti dal sito dell'administrazione dell'innovazione per apportare le sue osservazioni, le sue migliorie al testo di questo CAD, del codice, e questo succedeva a marzo e due o tre giorni fa è stato finalmente promulgato il CAD definitivo, quindi rimpinguato, migliorato con l'osservazione dei cittadini. Beh, che campo dubba, giustamente. Sì, sì, hanno avuto qualche migliaio di osservazioni, pian piano questa cosa è stata migliorata, meglio fare così, meglio fare colà, però è un meccanismo di quelli con cui la rete, cioè è una logica di funzionamento che assomiglia molto a quello che sarà, che è la modernità ora. Ecco, quali saranno i benefici di queste CAD? Auspicabilmente migliorare tutta quanta la comunicazione con la pubblica amministrazione, in entrambi le direzioni, cioè top down e bottom up, da loro verso la cittadinanza e dai cittadini nella partecipazione a meccanismi consultivi o luoghi di socialità, della collettività nei confronti della cosa. C'è che bisogna vedere tanti che il team libera per fare tutte le scelte di roba e chi li fa porre. Tutto se sono studiosti, un po' di sfalu e anche ti stai a fare lavoro. C'è un cittadino normale molto facile. Eh, se ne accorge nel momento in cui gli servirà qualcosa, andrà sul sito del comune o sul sito di un ente governativo, si accorgerà della facilità con cui, auspicabilmente, ripetiamo, gli sarà facile trovare l'informazione che cerca. Sperare che si inneschino anche dei meccanismi di miglioramento continuo, ad esempio se il comune di Gorizia, guarda la comune di Udine, ci dovrebbe essere una persona lì fatta apposta per questo, oppure qualcun universitario che fa delle ricerche apposta per migliorare il territorio, dice, ah guarda come hanno fatto loro, facciamolo anche noi. Pian piano la qualità complessiva della comunicazione istituzionale cresce arrivando all'ottimo. Benone, vinne decidute di fare un tre puntate sull'amministrazione, le scuole e tutto il resto, proprio te parvi anche e poi spazi, par capicciamo che cambieranno gli srobis, proprio te, con che c'è l'web e sulle tutte che c'è un disincusibile, srobisbienlis dell'elettronica, perché non sono robisbienlis, ma un ed è magari srobisbienlis dentro di questa trasmissione, capisci che è di brutto, ecco, c'è che si può mettere ribaltante, ecco, il duccio che avrà di fare il cittadino, perché c'è un che dicevino anche dentro la trasmissione di voi, all'ultimpa sta da ora, a tutte scese robeschi. Anche perché, per solito, io ho notato, non si dicevi in quante serie frusse che le tecnologie non si fanno lavorare di manco, le realtà tali che non si fanno lavorare di più, non si è vero anche per te. Benone, allora, grazie a Giorgio Giannis, mandi buone giornate, mandi. Ciao, buona. Grazie a tutti.